ciao questa sera voglio presentare una piccola torcia che ho preso su amazon è una torcia ero curioso è un torcia che monta un led prodotto dalla ditta Cree vediamo se qua si riesce a vedere qui è marchiato Cree Q5 è praticamente un led ad alta luminosità che viene diciamo pubblicizzato insomma in parecchi siti come led di tipo militare una cosa del genere ero curioso di vedere effettivamente la luminosità di questo di questo apparecchio questa è una lampada sinceramente a buon mercato l'ho pagata a 6 euro su amazon comprese le spese di spedizione erano gratuite quindi 6 euro è quello che speso è arrivata confezionata un po poveramente diciamo nel senso che nel solito sacchettino della royal mail arriva dall'inghilterra c'era la lampadina confezionata nella in una scatolina di di carta protetta da un sacchettino mille bolle tutto sommato può anche bastare diciamo nel senso che il corpo della della lampada è in metallo ma anche abbastanza da impressione di solidità quindi direi che tutto sommato la protezione può bastare è dotata di una lente qui sulla parte anteriore la particolarità è che questa lampada muovendo questa parte anteriore con un movimento a pompa cioè avanti e indietro può concentrare il fascio luminoso in un punto determinato quindi può essere utilizzata a fascio ampio per avere un'illuminazione da vicino e abbastanza insomma sinceramente l'ho provata quindi una stanza può illuminare una stanza oppure può essere utilizzata con un fascio luminoso ristretto fascio luminoso che arriva a una notevole distanza diciamo che almeno una cinquantina di metri li fa senza problemi mi sto parlando ovviamente di questo prodotto cioè questo provato ce ne sono sicuramente di più care di più magari costruite in un mondo più accurato e magari hanno anche prestazioni migliori questa specifica è alimentata da una batteria a da 1,5 volt che è qui sotto questo questo tappo questo tappo si toglie questo tappo è anche l'interruttore per accendere e spegnere quindi tutto sommato anche con una batteria ricamericabile penso che possa essere alimentata senza problemi non ho idea di quanto possa durare cioè l'ho presa mi è arrivata oggi non so non ho ancora potuto provare penso che l'utilizzo possa essere non quello di un utilizzo intensivo cioè di lasciarla accesa per delle ore sinceramente ma di un utilizzo abbastanza spot cioè per fare per esempio una segnalazione potendo concentrare il fascio luminoso e avendo una gittata abbastanza lunga può per esempio essere utilizzata per questo tipo di cosa oppure appunto un utilizzo tutto sommato breve ecco che dire è dotata di una clip sul sul lato da questo da questa parte una clip nel mio caso non è proprio diciamo fissata benissimo però sto parlando di un oggetto che ho pagato 6 euro quindi per carità insomma compreso viaggio tutto quanto vabbè insomma non mi lamento niente se riesco adesso provo accenderla però comunque qui diciamo in ambiente luminoso non credo di riuscire a far vedere granché è molto luminoso comunque ecco questa qui è la modalità luce espansa se faccio luce concentrata quindi la punto per esempio sulla telecamera si può vedere che anche la telecamera viene abbagliata in effetti sul sul sulla parte qui c'è un segnale che non so se si riesce a vedere indica la possibilità di abbagliamento cioè il pericolo di abbagliamento quindi non è bisogna evitare di puntarla in faccia qualcuno niente ecco ero curioso direi che non è male è un aggeggino carino niente ecco è tutto qua spero che possa essere utile a qualcuno saluto tutti come al solito ci vediamo alla prossima ciao a tutti 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 a tutti